Roberto Benigni ha detto se vince il no è una specie di Brexit una tragedia e per quanto io sia stata in Inghilterra e si danno come un tono sembrano tutti felici spendono spandono ridono fumano di nuovo nei locali pubblici bevono scoreggiano e ruttano si vede che è tutta una scena non sono contenti uscire dall'Europa è molto duro è molto brutto loro fanno finta ad essere allegri fanno finta ad essere ricchi ma sono poverissimi